Visita dermatologica fissata il 22 aprile 2024, sette mesi dopo la data di prenotazione, lo segnala alla nostra redazione una pensionata piacentina residente in città. L'82enne si è rivolta alla sanità pubblica per verificare un neosospetto sulla pelle, ma è rimasta a dir poco stupita dalla tempistica prospettata per essere ricevuta da uno specialista. Dopo la segnalazione di Telelibertà, che ha contattato l'ASL per chiedere un chiarimento, la situazione della donna è stata risolta. Stando alla prescrizione medica, la visita dermatologica è stata ritenuta programmabile e deve essere svolta entro 120 giorni. Perciò è stata concordata una nuova prenotazione a novembre, fa sapere l'azienda sanitaria locale, puntualizzando che probabilmente al momento della richiesta della piacentina non c'erano date libere o erano disponibili solo le strutture in provincia. Il caso specifico della pensionata piacentina però torna ad accendere i riflettori sulla delicata situazione delle liste d'attesa. Nell'ASL di Piacenza le criticità relative alla settimana dal 4 al 10 settembre riguardano soprattutto le visite dermatologiche che riportano un indice di performance fermo al 18%, la stessa percentuale si abbatte sulle visite urologiche, mentre le domande per un attac del capo, esame diagnostico alla testa, sono soddisfatte regolarmente solo nel 40% dei casi, livelli bassi in segno rosso anche per l'attac racchide e l'attac al torace, in peggioramento rispetto alle settimane precedenti pure la gastroscopia. La panoramica viene fornita dal portale regionale che riporta la percentuale di visite ed esami erogati entro i tempi standard. A detta dell'ASL però i dati mostrano per Piacenza situazioni che tengono conto del periodo estivo. Dopo un primo semestre molto positivo, dicono dell'azienda sanitaria, nelle scorse settimane i tempi per alcune prestazioni si sono leggermente allungati a causa delle ferie. Già negli ultimi giorni l'ASL ritiene che la situazione sia in netto miglioramento e in dermatologia si sta assegnando un incarico libero professionale per aggiungere ore di attività. Per quanto riguarda le prestazioni radiologiche, la direzione sta definendo progetti per ridurre le liste di attesa, per l'urologia in fase di pubblicazione un bando per cercare un ulteriore professionista e si sta lavorando a un concorso per assumere nuovi specialisti, mentre in gastroenterologia sono arrivate due sostituzioni di medici che hanno consentito di inserire nuove disponibilità.